ciao mi dici presenti come ti chiami angelica facci guidaci dove stiamo a capodimonte vediamo qui c'è il lago e qui ci stanno tutti i giochi guardate ragazzi quanti giochi c'è il camper faccio vede faccio la guida sì 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 se ci riesce ci vuoi arrampicare anche il secondo anche ma è molto più figo perché è più vertebroso vertebroso ma la parola uno ma due che ho curioso quelle casette facciate che c'è dentro quelle casette faccio vedere faccio vedere o c'è qualcuno faccio vedere queste per i bambini piccoli questa questa per i bambini medi che minchiaggio ragazzi qui dentro ma che sono pieni queste casette no se l'avete riconosciuto quelli della dell'altra casetta scrivono nei commenti ciao vittici no raga guardate sono pieni queste cose che poi c'è il ristorante a porta via è come il mac un po vede faccio vedere questo sta a portare la roba da mangiare faccio vedere che roba è faccio vedere lo zoom così fai vedere come lo mangi allora ragazzi stanno a portare da mangiare incredibile stanno mangiando dentro una casetta piccolissima roba da pazzi ragazzi ragazzi questa casa qua vai ti salutano ciao guardate quanto ce l'abbiamo sono tutti i mitici no ragazzi no ragazzi no ragazzi no ragazzi aspetta fammi vedere questa casetta è affollatissima ragazzi allora voi chi siete scrivete nei commenti se li riconoscete eh guardate comunica con l'acca con il reparto dietro ragazzi entra anch'io eh un attimo che scoperchio il tetto entro eh ragazzi scoperchio entro eh Alessia magna si ragazzi ragazzi se vi è piaciuta la presentazione d'Angelica dovete mettere pollice e cinquanta sì sì lo so sì sì e se stupriamo cinquantamila like faremo un altro video ah madonna ragazzi quanti like Manoletta cinquantamila oh cinquantamila hai fatto bene quanti like mi dica cento like centottantamila no ragazzi centottantamila quanti like mi dico sì 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 non ascoltate lei quella mia sorella manca un po' manca a scuola direttura di quanti peperino la chiamano peperoncino allora ascoltate me e Manoletta cinquantamila like e ci vediamo nel prossimo video ciao e vi facciamo tutte insieme cento like cento like ho fatto lo sconto ragazzi sconto sconto 10.000 fate così tutti 100 ma dobbiamo arrivare a 15.000 like 100 100 100 100 a forza di 100 ragazzi giusto giusto ciao ci vediamo al prossimo video ma tu ci dai il camper io il camper allora il camper un'altra volta ragazzi ci fai fare il giro di tutto il camper sì sì perdiamolo da lontano madonna del grosso ragazzi è tutto ciao guardate che è grosso ho detto ormai ciao ho detto ciao ragazzi ormai ciao ho detto ciao fatecelo sapere ragazzi fatecelo sapere se vorreste vedere quel mio camper ciao a tutti e raggiungete i 15.000 like ciao ciao mitici così guardate fammi fare ciao mitici bellissima